Ho scritto il mio passato dentro un libro, da quando ero bambino in cominciare. Già da canciullo facevo il pastore, ricorda anche la fame che mi alzai. A undici anni parto per Milano, la mia famiglia sei migrata l'amore. Cercando di cambiare la fortuna, ma questo non cambiò la realtà. Bevo la mia mamma sempre triste, a volte le sue lacrimi preveva. Quando gli ho chiesto a mamma perché piange, disse la mia famiglia è sparpagliata. Ed eravamo soli in due la sua Milano, un'altra e due rimasero in Calabria. Ma lei pensava ancora più lontano, ai tre che si emigrarono in Australia. Io le dicevo, mamma non piange, le cose ora a vedere si cambieranno. Ora che incominciamo a lavorare, per l'Australia a noi ci chiameranno. Ma nel 67 che succede? Avevo 18 anni quasi fatti, avevo due frumenti quasi pronti, con mio fratello, mamma e papà. Vado in Calabria a salutar gli amici, mi faccio male non posso partire. Dopo tre mesi sto passando bene, mi faccio male non posso partire. Mi ha amato ora e contenta, ma non tutta, pensa a quelli che restano in Calabria. in Calabria, però le ha nel cuore la speranza, che un giorno ci vediamo in Australia. E nel 73 che questo accade, in Australia fumo riuniti. Sì, però mamma e papà vivono poco, ormai il suo lavoro è la vita. 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 Non ho faccio il lavoro è la vita.